Dopo la fine del fitness ci sono tante belle ragazze, però purtroppo la Campania è a sempre il primo posto con le belle ragazze, vero Iole? Qui abbiamo una bellissima donna, puoi dire tu come ti chiami? Elena Elena, che mestiere fai nella tua vita, la tua bellezza, l'immagine che ti ho visto in varie situazioni particolari, sfilate eccetera? Sì, Osses, fotomodella Vedi Daniele, che la Campania è sempre il primo posto Come ti sei trovata alla seconda edizione della Notte Bianca alla Fit Time? E' stata stupenda perché è stata sensazionale, un sacco di gente ha raccolto, musica bellissima, gente piena di vita E ti presenta l'internazionale della Fira del Fitness Sì L'aspettiamo, la portiamo con noi al SEBS e a Roma a Mondo Fitness Vado avanti Daniele? Ci sarò Ci sarà A tuo fianco sì A mio fianco C'è una campionessa qui, dei cavalli, trotto vero? Trottatore Trottatore Iole, puoi spiegarci un attimino un po' tu queste gare che fai? Vabbè, sono corse al trotto a livello nazionale Dove per la maggior parte delle volte corro soltanto con uomini Quindi, però sono corse a livello nazionale Dove ci sono comunque scommesse Sempre a titolo nazionale Quindi di conseguenza è tutto un giro Quindi sport, bellezza e futuro per tutti Ciao Alla avanti